Bilancio del primo corso di formazione teatrale per attori che si svolge all'Eschilo di Gela. L'iniziativa porta alla firma della scuola di formazione teatrale Prosa. Sono 16 i partecipanti, docente ad eccezione e l'attore Tuccio Musumeci. Per il giovane il teatro può rappresentare un'attività lavorativa un giorno o deve rimanere soltanto uno di una passione? Ma secondo me oggi con la crisi che c'è è meglio la passione. Oggi inserirsi un ragazzo o ha raccomandazioni politiche e va a infilarsi, io li nomino ma c'è Ugo Pagliai che si vergogna a nominare queste fiction. Una volta si chiamavano sceneggiati dove c'erano i grandi attori. Oggi non gli interessa più niente, fanno queste fiction ma non si capisce niente di quello che dicono. Sono attori che uno poi non si sa chi sono, che non hanno una tecnica, non hanno un tipo di recitazione, sono tutti calanti. Io tante volte ne vedo, con mio figlio mi diverto perché non si capisce una parola di quello che dicono. Al regista non gliene frega niente perché deve presentare il prodotto alla televisione. Perciò non si ragiona più. Io mi ricordo quando facevo Sette Voce a Milano che era il programma del sabato sera che lo presentava Pippo Baudo ma c'era un rigore dei funzionari. Oggi invece proprio alla televisione di Stato di San Marino mi sono trovato bene perché fa dei programmi veramente intelligenti. Qua oggi le televisioni bisogna anche specialmente quelle emittenti private debbono dare una svolta. Debbono dare una svolta anche per avere la pubblicità perché si vive di questo la pubblicità. Ma debbono dare una svolta perché gli spettacoli oggi di varietà lo fanno i politici. Ai nostri microfoni Franco Longo, direttore del Teatro Eschilo. Siamo contenti che non sono soltanto attori o aspiranti attori gelesi ma anche da Licata, da Niscemi, da altre parti della Sicilia. Abbiamo avuto anche richieste da Noto, da Siracusa, però ci siamo limitati ai 16 di quest'anno. Proprio per cercare di fare un bel lavoro, certosino, con tutti, con grande attenzione. C'è l'interesse proprio da parte di chi partecipa? C'è molto interesse, c'è molto interesse. Diciamo che è duplice. Da una parte ci sono i giovani che vorrebbero fare l'attore, l'attrice, teatrale o cinematografica o altri lavori nel mondo dello spettacolo. I grandi no, i grandi magari lo fanno per hobby, per il teatro amatoriale perché già si occupano di altro, fanno altro nella vita.